La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola con il cazzo che ci andrò, alzarsi così presto, chi cazzo te si incula? Ragazzi, prima o poi pestegnerò, e invece della scuola certe cose devo far, per prima cosa mo' me scappa popo da cacà, e dopo aver cacato non ne posso proprio più, me scopo la maestra sorga per tirarmi su, ho un sistema rapido, infallibile e geniale, fortunatamente io ce l'ho, si me lo chiedete per favore, forse c'è una voi pestegnerò, ma sì, ma dai, pestegnerò mannaggia quel porcaccio del porco Dio, a scuola ho fatto tardi, i santi so' bastardi, me magno Cristo con ragù, mannaggia il Dio bastardo, fattene a fancù, mannaggia quel porcaccio del porco Dio, le suore son mignotte, e mattono di notte, con cinque euro te li inculi pure te, te fanno un bel compino, le ammazzi e vinci te. La situazione è grave, eppure mia sorella, lei prega sempre noi e va poi mai di bestemmia, non c'ha capito un cazzo, così non si rilassa, ma mangia Dio così mi morirà. Allora prendo un foglio mia sorella e Belzebù, e dico studia tutto, e presto te interrogo, e se Paolo Chiavedo sa che poi non studi più, e tira un bestemmione e fa cascata al cielo Gesù. C'è un sistema rapido, infallibile, geniale, fortunatamente io ce l'ho, si te studia il foglio tra due ore, torno e dopo l'interrogerò, ma sì, ma dai, bestemmi insieme a noi, mannaggia quel porcaccio del porco Dio, metti il mio pure Dio, mannaggia il padre mio, me magno Cristo con ragù, con ragù, mannaggia...